Ciao, io sono Antonio e anche oggi, come ogni martedì, nuovo video con prodotti potteriani e non solo. Questa settimana ho aggiunto un altro po' di roba, visto che mi sono arrivati tanti pacchetti ultimamente e volevo aprirli assieme a voi. Quindi adesso cominceremo subito e alla fine del video ci sarà anche una notizia, un piccolo aggiornamento sul canale che vorrei condividere con tutti voi. Prima di cominciare vi ricordo che col codice sconto 7Potter, sempre valido, potrete avere il 15% di sconto su tutti i vostri oddini fatti su Pampling. Quindi se vi piacciono le magliette nerd e i gadget nerd, ragazzi, trovate tantissima roba sul sito Pampling come questa maglia qui a tema Star Wars. Ma bando alle ciance, cominciamo subito a spacchettare perché abbiamo davvero tantissima roba. Io direi di cominciare subito con gli arrivi del mese a tema home video e cominciamo col pacchetto di Warner Bros. Vediamo quali sono le uscite di questo mese. Ok, ecco qui, ne abbiamo ben due. Togliamo la busta. La prima è un cartone, un film in animazione digitale che si chiama Small Foot. Si tratta di un'amicizia un po' improbabile tra un Bigfoot, tra uno Yeti più che altro, e un essere umano. In questa storia abbiamo un capovolgimento dei ruoli perché troviamo una comunità di uomini delle nevi che entrano in contatto per la prima volta con un essere umano che loro credevano fosse una leggenda. Quindi un po' il ribaltare la situazione, solitamente sono gli umani che non credono alla storia di Bigfoot, alla storia dello Yeti. E in questo caso invece appunto è il contrario. E nascerà anche una bella amicizia e si andrà ad intrecciare con tutte le vite degli altri membri della comunità di questo Yeti. Che già dalla faccia mi sembra molto molto simpatico. Io non l'ho ancora visto e mi piacerebbe molto vederlo al più presto. Io come sapete sono fan del cinema di animazione e non me ne vergogno. Il secondo titolo del mese di Warner è invece The Nun. The Nun fa parte dell'universo di The Conjuring e parla di una giovane suora di clausura che in una abbazia in Romania viene trovata morta, si suicida. E vengono inviati un prete e una novizia per indagare su questo caso. Ragazzi, neanche a dirlo, si ritroveranno faccia a faccia con delle forze demoniache che prenderanno appunto anche l'aspetto di questa giovane suora. È super mega inquietante questo film. Credo proprio che lo vedrò con i miei amici perché non l'ho ancora visto. E ragazzi, io vi segnalo ad esempio che su Mini Big World Collectibles, non so se è ancora disponibile, c'era in vendita anche una gran bella bambola con le sembianze di questa suora e anche un Funko Pop Custom. Quindi, per chi fosse appassionato del genere, piccole chicche anche su Mini Big World. Bene, detto questo, io passerei alle altre uscite del mese in un video e passiamo a quelle invece che arrivano dall'ufficio stampa di Universal. Quindi vediamo cosa c'è dentro questo pacco così cicciotto, se dovesse riuscire mai ad aprirlo. Ok, direi mese di gran recuperoni in casa Universal. Intanto tiriamo fuori i primi due. Si tratta, il primo è un cofanetto in DVD di American Pie. American Pie 5 fette. Un cofanetto che contiene al suo interno American Pie 2, American Pie il matrimonio, Bed Camp, Nudi alla Meta e Ancora Insieme. Io sono un grandissimo fan della saga di American Pie, li ho quasi visti tutti al cinema e ragazzi, a me piacerebbe che ancora continuasse e che magari tra qualche anno noi riuscissimo a trovare al cinema un nuovo capitolo. Io ci spero sempre, mi fa tantissimo ridere, mi sono sempre piaciuti questi film e devo dire che questo è un gran bel recuperone, un bel cofanetto con 5 film. Altrettanto bello è questo qui, che è invece il cofanetto di Ti presento i miei, mi presenti i tuoi e vi presento i nostri. Anche questo ragazzi, un film, una trilogia che amo, mi piace tantissimo. Anche questi li ho visti al cinema con i miei amici ai tempi della scuola e ragazzi, sono tra i miei film preferiti in assoluto. Soprattutto il primo che mi è rimasto davvero nel cuore perché mi ha fatto ridere come niente mai nella vita. È davvero molto molto divertente, secondo me uno dei cast meglio assortiti del cinema e quindi per chi non li avesse mai visti, per chi non avesse mai visto questa trilogia, io ve la straconsiglio. Passerete delle ore davvero divertentissime in spensieratezza e ragazzi poi Barbara Streisand che fa la mamma, che interpreta la mamma di Ben Stiller, davvero la ciliegina sulla torta. Mi piacciono davvero un sacco, quindi grazie per questi cofanetti che naturalmente vi trovate sotto in infobox. Trovate tutto quello che vi mostro sotto in infobox. I vari link ad Amazon e naturalmente come vi ho già spiegato, acquistando qualsiasi cosa tramite i miei link, aiuterete il canale a crescere perché Amazon mi riconosce una piccola percentuale. Ma detto questo, il pacco non è ancora finito perché abbiamo dentro ben 4 Blu-ray. Eccoli qui, si tratta di ben 4 cartoni della Dreamworks, quindi altri recuperoni e il primo che vediamo è Zeta la Formica. Secondo me Zeta la Formica è uno dei film più sottovalutati della storia, a me piace davvero tantissimo. All'epoca lo vidi al cinema e, o anche da qualche parte, la videocassetta. Questo davvero un film assolutamente che vi consiglio di recuperare, magari parlo con i più giovani che potrebbero non conoscerlo. Poi un altro film è Shark Tale. Ragazzi, anche questo una perla. Se non ricordo male, la voce del protagonista è di Will Smith ed è davvero super super simpatico. Abbiamo tanti tipi di pesci con dei caratteri molto molto particolari, molto molto umanizzati nei caratteri e nelle movenze. Anche questo, ragazzi, ve lo straconsiglio e sono davvero super contento che Dreamworks in questi ultimi mesi abbia rimesso in colmezzo tutti i suoi classici in formato sia Blu-ray che DVD. Davvero una gran bella occasione per recuperarli e poi sono molto molto belli perché tutti assieme hanno comunque una loro continuità qui nella parte bassa perché troviamo una barra colorata con i vari protagonisti e poi tutti messi assieme fanno davvero una gran bella figura. Sono un gran bel colpo d'occhio nella vostra libreria barra videoteca. Ma non è ancora finita qui perché abbiamo La Strada per il Dorado, un altro grandissimo classico della Dreamworks e poi abbiamo anche Galline in Fuga, un film che a me ha fatto davvero ammazzare dalle risate. Davvero gran bei recuperoni sia quelli di Universal che questi qui di Dreamworks. Sono davvero molto molto contento ma adesso continuiamo con i nostri unboxing e passiamo a questo pacchetto di EMP che ragazzi ormai ha fatto quasi la muffa e messo da parte da tre vite. Quindi direi di andare subito finalmente a tagliare il nastro. Si tratta naturalmente di un Funko Pop ed è un Funko Pop esclusivo. Un Funko Pop che è presi al volo e che non ricordo se è ancora disponibile. Nel caso comunque lo trovate su EMP, vi lascio il link in info box. Si tratta del Pop di Ermione che prepara la pozione Polisurco. Vi dirò, non ero proprio convinto di prendere questo Funko Pop perché ho già Ermione quella che ho trovato in abbinamento con il treno, con l'espresso di Hogwarts e non mi va di avere personaggi doppi. Però, visto che possiedo la versione di Ermione polisuccata, quella lì in versione gatto, mi sembrava carino affiancare a quella versione lì anche la versione di Ermione appunto che prepara la pozione. Pop molto molto particolare, bollinato EMP Exclusive. Pop che ha anche il calderone con la pozione separata, è seduta con le gambe incrociate ed ha, se non sbaglio, anche il supporto all'interno dove andare a posizionare tutto. Un Pop particolare che comunque mi fa piacere avere nella mia collezione e che sicuramente un domani questo qui aumenterà il suo valore. Quindi l'ho preso molto molto volentieri alla fin fine. Da notare anche la piccola ampollina che ha nelle mani, l'ingrediente che sta aggiungendo alla pozione polisucco, fatto molto molto bene, trasparente, con liquido all'interno. Gran bel Pop. La testa ovviamente riciclata da un altro Pop di Ermione, ma con Funko ormai lo sappiamo. Prossimo pacchetto, sempre a tema Harry Potter, si tratta di un altro recupero da parte mia, perché si tratta di un oggetto che si trovava all'interno di una loot crate di Harry Potter, quella di J.K. Rowling, un oggetto che, quando ho visto l'unboxing sui canali americani, mi è subito piaciuto e mi sono pentito di non aver preso quella box. Bene, qualche giorno fa, su Facebook, se non sbaglio, sì, su Facebook, una ragazza stava vendendo alcune delle sue cose potteriane e tra queste c'era proprio questo oggetto che ho subito acquistato. È stata molto molto gentile e, devo dire, mi ha anche fatto un buon prezzo, quindi sono doppiamente contento. Adesso vi mostro subito di cosa sto parlando, già potete intuirlo anche dalla scatola. Si tratta di un prodotto di Mielandia, un prodotto di Mielandia che, veramente, volevo da tanto e che sono davvero super contento di aver trovato. Ok, eccolo qui. La confezione è molto molto carina, in pieno stile Mielandia o Honeydux, ragazzi. Il nome originale, naturalmente, è stampato qui sulla copertina, chiamiamola così, sulla parte superiore della scatola. Ma all'interno cosa c'è? Ci sono quattro gomme da cancellare. Quattro gomme da cancellare che, però, naturalmente, non sono mai state usate e mai lo saranno da parte mia e che, però, vanno a riprodurre quattro dei dolci più famosi di Mielandia. E adesso ve li mostro, ve li faccio vedere. Eccoli qui, sono molto molto belli. Adesso ve li mostrerò più da vicino e sono questi qui. Il primo è una lumaca, questa lumaca di gelatina, che è possibile anche acquistare nel mondo reale. Sono delle bustine con queste lumache che hanno esattamente la stessa forma e sono gelatine alla frutta. Io, se non sbaglio, le ho anche recensite qui sul canale. Trovate comunque il video nelle schede e all'interno della sezione Harry Potter del canale. Poi abbiamo anche la cioccorana, che non profuma di cioccolato, ma va bene così. La cioccorana molto molto carina, anche questa è simile a quella reale che si può acquistare nelle bustine con la carta all'interno. E poi, ancora, questo teschio, che sinceramente ricordo che esiste nella storia, che è stato nominato nella storia di Harry Potter, ma non ricordo assolutamente il nome di questo dolcetto. Quindi, nel caso, ragazzi, scrivetemelo sotto nei commenti. E poi l'ultimo, che è questo qui, questo piccolo calderone con all'interno questa crema, se non ricordo male, di zucca. Non so se si tratti degli zuccotti di zucca o di piccoli calderoni, ma non ricordo davvero il nome esatto che è stato dato nella traduzione italiana. Quindi, per chi li ricordasse, scrivetemi sotto nei commenti il nome di questo dolcetto qui è la testa messicana, il teschio messicano. Io, ragazzi, davvero, non ho dubbi che nell'acquistare un prodotto del genere ufficiale Warner in un negozio, ad esempio, come quello di Noble Collection, sicuramente potrebbero chiedervi senza problemi 25-30 euro. Trovarlo all'interno della Loot Crate era stato un gran bel colpo e sono, vi ripeto, contento di averli finalmente recuperati e poterli aggiungere alla collezione. Ma non è ancora finita qui, abbiamo quest'altro pacco che invece mi arriva proprio da Pampling con i miei ultimi acquisti. Dentro non ricordo più cosa c'è, perché anche questo messo da parte prima di Natale. Quindi ho completamente dimenticato cosa possa contenere. Ok, abbiamo una maglietta. Ok, sì, la ricordo bene, questa maglietta è una maglietta a tema potteriano, almeno credo, ma comunque per me lo è, a prescindere. Vorrei aprirla così da farvela vedere meglio, perché la trovo molto, molto carina. Eccola qui. Si tratta di una maglia blu. Sono davvero difficili da trovare le maglie blu su Pampling. Solitamente sono tutte bianche o nere. Questa era blu. E abbiamo questa setta, che è formata da tre libri impilati. A me piace tantissimo. Secondo me è a tema evidentemente potteriano. Però fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, perché la setta più libro per me fa subito Harry Potter. Altro prodotto contenuto in questa bella bustina ermetica sono delle caramelline. Caramelline di Pampling che sono più o meno come una droga, perché una volta iniziate a mangiare, ragazzi, le finirete nel giro di due minuti netti. In questo caso abbiamo la lattina, con questa illustrazione Never Forget, con un floppy disk, una videocassetta, e una cassettina musicale che si tengono per mano. A me fa tantissimo ridere questa illustrazione, talmente tanto che infatti ho deciso di prendere anche questa, che ha la stessa identica illustrazione, ma fatta su una felpa. Le felpe di Pampling, ragazzi, sono ottime. Io ne ho già tre o quattro e le uso anche per andarci al lavoro. Sono molto, molto belle. All'interno sono morbidissime e anche il tessuto è davvero morbido. Sono calde e non sono troppo pesanti, non sono troppo spesse, sono abbastanza sottili, ma tengono comunque molto caldo, perché sono imbottite all'interno con questa sorta di pelliccetta. Mi piace davvero tantissimo. Io ho preso una misura M, dovrebbe andare bene, e ragazzi, guardate quanto è figa questa illustrazione. Io che sono nato un bel po' di anni fa e utilizzavo tutte e tre queste cose, io utilizzavo anche i floppy disk a scuola, quindi pensate quanto sono vecchio. Ragazzi, mi crea subito tantissimi feels. Quindi assolutamente una felpa che non potevo perdermi, ma ne trovate tante altre. E come vi dicevo, col codice 7Potter 15% extra di sconto. Ultimo pacchetto, ragazzi, è questo qui accanto a me, della New Wear, o non ho idea di come si chiami, comunque l'ho comprato io su Amazon, ed è legato alla notizia che avrei dovuto darvi alla fine. Ebbene, ragazzi, ho deciso di cimentarmi, di buttarmi in un upgrade del canale. Ho deciso di provare ad utilizzare il green screen. Ho acquistato questo telo su Amazon e la settimana prossima dovrebbero arrivarmi gli stativi supporti per tenere il fondale in piedi dietro di me. Quindi voglio provare a lanciare questo nuovo prodotto, non lanciare, ma ad utilizzare sul canale questo nuovo prodotto, con le prime Potter News di quest'anno. È da un po' che non le faccio, ma ragazzi, non le ho dimenticate, però serve davvero tanto tempo per realizzarle, e visto che mi è venuta l'idea di inserire il green screen nel canale, voglio provare a fondere le due cose in un primo video, dove magari potrò inserire uno sfondo più carino durante le Potter News, magari una sorta di studio virtuale, non lo so ancora, quindi commentatemi sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate dell'idea e cosa potrei utilizzare come sfondo per le Potter News. Se l'esperimento andrà bene, se riuscirò ad utilizzarlo, poi magari lo andrò ad inserire anche in altri format, perché mi sono un po' stancato di portare solamente unboxing, voglio cominciare a portare anche opinioni, pareri, teorie, altre cose che fanno parte non solo del mondo di Harry Potter, ma anche magari recensioni, vorrei un po' variare, fermo restando che il martedì sarà sempre il giorno potteriano. Bene ragazzi, detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, spero di non avervi annoiato, spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia, se il video mi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici, e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao! Grazie a tutti!